Ehi la ciurma! Io sono Mazzetess e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Spore e Avventure Galattiche. Siamo sempre in fase creatura ma io direi che potremmo essere quasi addirittura di arrivo per la fase tribale. Nel senso che mi piacerebbe avere più i punti DNA per passare ma non so se riusciamo ancora ad accumularne altri. Più che altro per una questione di caratteristiche aggressive che possono tornare utili per la parte spaziale in cui bisognerà attaccare. Perché davvero mi sono ritrovato anche io in con le missioni pacifiche in cui c'era poi un casino di roba da fare. Io adesso andrei a vedere se per caso si riesce a... questi sono cattivi, sono buoni? Ah questi non dicono niente quindi proviamo a vedere a... A fare un po' di amicizia, ciao! Ma come così bene! Ah no, noi non abbiamo più il... Non abbiamo più il... Cos'è questo? Non mi ricordavo... Ma dove stai andando? Allora... Mozzo! Raccogli Stambaradano. Vai da quello? Ok, ballano molto bene questi. E io non ce l'ho più il fascino. Lo tolto il fascino? Non... Ma scusate, questo è qualcuno che sta mangiando qualcun altro? Ah no, forse mangiavano solo il cibo. Eh sì, infatti. Eh ma non abbiamo più il fascino noi. Prima di andare da qua e vedere cosa succede. Ciao bello. Non posate, per favore. Non posate. Cioè sì, posate ma non fascino. Oh ma siete... Monche. No, ho detto monche. Dove è andato monche? Non... Siamo molto più bravi di voi a posare. Anche a ballare. Qualcosa mi dice che abbiamo vinto. Allora, vediamo un attimo. La spicchiano, la grande. Ah, siamo già amici. Ma non abbiamo preso altri punti? Andiamo a difendere il nostro amico? Andiamo a difendere il nostro amico? Forse siamo arrivati un po' tardi, eh? Dai! Dai! Uccidi! 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 Vai, 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 vai. Ce n'è uno dietro. No, ce ne manca ancora uno. E' questo qua. Sì, abbiamo preso dei punti. Quindi vediamo se poi riusciamo con 109 e se riusciamo a combinare qualcosa. Almeno rimettere il fascino, non lo so. No, ma il fascino non ci serve più tanto. Più che altro è per uppare questi. Perché ho tre. Quattro, quattro, ma non abbiamo l'altro. Cos'è che è quello? Andiamo un attimo dalla nostra casetta. Ah, quello sta bene adesso. Corri! Ok. Ah, ha fame. Senti, vai a mangiare qua. Eh, mangia veloce, eh. Guarda come corre. Ok, vediamo se c'è una femmina o qualche sarà lei probabilmente. Richiamo. Eh, ho un po' di intimità, eh, ragazzi, per favore. Non guardate tutti di qua. Eh, ragazzi? Un po' di intimità, per favore, grazie. Ah, ma è sempre lui che depone l'uovo. Non lo so. Wow. Vediamo se riusciamo a uppare qualcosa. Magari da mettere... L'altro coso aggressivo, che non mi ricordo neanche quale sia l'altro. Colpo cinque. Oh, però! Abbiamo un colpo cinque, abbiamo un... Ballo cinque! Qua abbiamo un colpo due, ma noi abbiamo un colpo... Abbiamo un colpo... Quattro, infatti. Un colpo quattro. Quattro, qua abbiamo... Niente di nuovo, niente di nuovo. Io metterei un colpo cinque a sto punto. Via questo e metti questo così, ma... Riducilo, più piccolo. Tipo che non si veda molto. Ma sì, dai, così va bene. E questo lo riusciamo a mettere a un ballo cinque. Lui adesso ha un ballo quattro, vero? Con queste. Infatti, se le tolgo... No, non abbiamo abbastanza punti, comunque. E quelle dietro cosa sono? A quelle dietro sono per carica. Carica al quattro. E' questo che era ballo al quattro? Eh sì. Cribbio! Non ci sono abbastanza... Se gli togliamo gli occhi... No. Non conviene. Eh no. E tra l'altro quanto costa? Due cinquanta. E noi togliendo questo... Ne viene centocinquantano. Dovremmo prendere altri cento punti. Ma io direi che si può fare. Andiamo a sterminare una delle razze che ci stanno qua attorno e ci facciamo dare quelli. Ma no, ma cosa dico? Sono solo per il ballo quelli. Non ci servono poi a un Kaiser. Abbiamo messo un colpo al cinque. Secondo me può andare così. Può andare così, ragazzi. Siamo stati creature per troppo tempo. Non è che possiamo girovagare sempre qua a cercare parti e componenti e... Gni, gni, gni e... Chi c'è qua? Dei mostro rana. Qua non ci sono però delle componenti nuove. Non mi conviene andare a sfasciare tutto. Sentite, ragazzi. Andiamo. Ah, alla fine siamo scesi un po' dal succevole, ma siamo rimasti comunque succevoli, eh. Quindi... Ci darà anche una base sul futuro, forse, questo, eh. Allora, cosa dobbiamo metterci di... Ah no, ci chiede di nuovo questo, ma tanto non abbiamo più un Kaiser di soldi, di niente, quindi... Nulla, 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 andiamo così. Mozzo, salviamo e passiamo alla fase 3-booo. È un grande passo per Mozzo. Ragazzi, non siete emozionati. Il nostro... È il nostro motto. Mozzo! Sto canticchiando perché sennò secondo me me lo claimano, quindi è meglio parlarci sopra assolutamente. La 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 la... La la la... La 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 la... Gli cade in testa. Infatti, buonotte. No, non l'ha beccato proprio in testa, ma... Fase 3-booo potresti incontrare... Chi potrei incontrare? Eh? Cicci. Ah, sì, l'avevo fatto io, Cicci. Che ridere. Sembrava un ometto palestrato. Cicci. Ma è sempre lui. Con il becco diverso. Biblittormia. Pavlag Stricker. Dragon. Ucoc. Mozzo. Ma mozzo ce l'ho io, scusa. Non è che incontro degli altri mozzo, sì. Oh, che bella abitazione. Picchia più forte, dice. Woohoo! Presto arrivano altre tribù. Ok. Quella è la barra dei progressi. Missioni. Ah, dove vestire... Allora. Ok. Allora, dobbiamo editare questo, suppongo. Premettergli i vestiti e... Allora, raccolta... Salute 3. Raccolta 2, socializzazione 2. Raccolta 3, socializzazione 3. Raccolta 2, combattimento... Allora, io sono un socializzatore, quindi... Cercherò quelli più per socializzazione e... Raccolta. Raccolta 3. Salute 1. Socializzazione 1. Combattimento 1. Quanti punti abbiamo? 60. Salute, salute. Queste sono solo decorative. E questi anche sono solo decorative. Allora, io andrei con... Io metto questo raccolt... Raccolta 3. Questo cap... Copri capo in questo modo? No, lo lascio così. E... È un socializzazione 3. Io lo metto sopra l'altro. Così a caso, proprio. Una torre di cappelli. Lo nascondo, così. Ma sì, ma poi tanto li buttiamo, questi, quando passiamo alla fase città, la fase spaziale, eccetera, eccetera. Perché non ci servono più a niente. Combattimento, socializzazione... Ma se aumento i cosi di socializzazione, aumenta la socializzazione. Se ci metto questo... La E3. No, rimane 3. Fate un cambio in Kaiser. Raccolta 3, salute 1, socializzazione 1, combattimento... Successi salute, social salute, salute... Niente. Io direi così... E ci teniamo tutta sta roba qua. No, paesano mozzo. Io lo metterei mozzo e basta. Ma non posso cambiare il nome? No. LOL. Mi ero dimenticato di hashtag sofico so bello so fotomodello. Oddio! Ragazzi, quante robe. Da qui. Grazie. 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 Grazie a tutti.